Futuro anteriore, perché? Motivo numero due, perché è naturale. Siamo cresciuti con le storie fin da bambini. La nostra vita è stata sempre accompagnata dalle storie, nei film, nei romanzi, nei gossip. Noi ci raccontiamo attraverso le storie e i leader si raccontano e guidano attraverso le storie. Non esistono regole nel racconto, quindi ognuno può strutturare il proprio racconto come vuole, ma il metodo è importantissimo. Futuro anteriore è il metodo di palestra della scrittura. Il racconto prosegue qui, nelle aule, nel sito palestradellascrittura.it. Ciao, Futuro anteriore.